Prima di iniziare a guardare il video, iscriviti al canale e metti mi piace. Pozzolo ha ferito una persona che partecipava a una festa di Capodanno. Le chiedo innanzitutto che idea si è fatta di quella vicenda, si è anche chiesto direttamente conto di questa storia a Pozzolo, che provvedimenti, se intende prendere, che provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato e legato a questo le chiedo se anche quello che è emerso in questi giorni sul background, sul passato di Pozzolo, le posizioni Novax, i post, apertamente in sostegno a Benito Mussolini, definito uno statista, non pongano un tema più generale sulla selezione della classe dirigente del suo.